il mio pensiero è molto semplice io ho vissuto ad esempio come testimonianza mia di vita in un ospedale perché ero sotto contratto con una trasmissione televisiva quindi sono risultato positivo dopo la bellezza di 14 tamponi negativi questo la dice lunga su quanto poco si conosce di questa malattia di quanto grave sia questo non si mette in dubbio quando era questo in questo ospedale che poi l'istituto clinico questo era esattamente dieci mesi fa a roma l'istituto clinico casa al palocco che è l'istituto che lavora con lo spallanzanide è un ospedale anti covid regionale del lazio quindi ci sono degli specialisti bravissimi assolutamente ho potuto constatare parlando con questi professori e parlando con i malati perché io grazie a dio dopo 15 giorni ero ristabilito completamente che tutte le persone che venivano curate in via immediata con i farmaci che ci sono già nelle nostre farmacie da 30 anni da 40 anni con un cocktail di questi farmaci naturalmente sotto cura e diciamo sotto le direttive di un medico di uno specialista i morti non c'erano cioè i morti avvenivano quando queste persone iniziavano la curva tardivamente e venivano magari tenuti chiusi in casa e non venivano curati quante vite si sarebbero potute salvare se pensate che nei primi mesi della malattia a napoli virologi e infettivologi di altissimo livello dell'ospedale di napoli utilizzavano il tolici zuban che per gli asco conosce benissimo e che poi è stato abbandonato la sperimentazione clinica è stata fatta lì dentro però questo farmaco è stato abbandonato salvo poi riprendere a distanza di tre anni dopo che sono stati adottati i vaccini come cura preventiva l'anichirna che ha lo stesso principio attivo quindi mi chiedo i farmaci c'erano c'era c'è la possibilità di salvare tante vite io sono frutto frutto di questa di questa diagnosi sono stato curato e ho visto centinaia di pazienti in questo grande policlinico che c'è a casa al palocco curare immediatamente e venivano salvati quelli che arrivavano tardivamente andavano in rianimazione e lì diventa ora ora sento anche pregliasco mi dici solo una cosa tu sei uscito dal covid sei un guarito quindi non sei vaccinato ma se non avessi avuto il covid ti saresti vaccinato tutti i figli del vaccino io ho delle grosse perplessità non sul vaccino come strumento di utilità medica e sociale ma sugli effetti che il vecino possa avere perché nessuno può saperli e lo hanno sollevato anche gli stessi dirigenti e medici e specialisti della pfizer a distanza di due anni quindi se ci sono delle perplessità le perplessità vanno spiegate non si interviene all'apparenza e buttare tutto in un calderone senza dare spiegazione alla gente è chiaro perché questo non convince le persone a vaccinarsi questo atteggiamento denigratorio vessatore di vaccinazione contro il vaccino devo andare in pubblicità finisce per produrre l'effetto contrario cioè che la gente non si vaccina devo andare in pubblicità attivate